Ci sono tornati in diretta, siamo pronti al nostro primo collegamento, dobbiamo fare il punto con un'iniziativa che vi abbiamo presentato alcuni mesi fa, un paio di mesi fa, a cura di alcuni ragazzi di San Giovanni Rotondo, tre in maniera particolare, Saverio e Donato Ciavarella che vivono a Roma e Francesco Scaramuzzi che vive a San Giovanni Rotondo. Sono fatti artefici di un'iniziativa solidale intitolata Pane Sospeso, oggi proviamo ad entrare in collegamento con Saverio Ciavarella via Skype o via WhatsApp se avessimo qualche difficoltà per farci appunto raccontare come sta procedendo il progetto. Allora, intanto vedete in sovrimpressione una grafica che sui canali social del progetto sta a ringraziare quanti hanno risposto a questa iniziativa con piccoli contributi quotidiani che hanno portato a fornire la Caritas Interparocchiale di San Giovanni Rotondo di 240 kg di pane. Direi un bellissimo risultato, spero di poterne parlare in diretta con il nostro ospite. attendo un segnale dalla regia. Eccolo qui, Saverio Ciavarella, buongiorno! Vedo che muovi le labbra ma io non ti sento, quindi prova ad attivare il microfono anche se vedo che è attivato. È attivo! Ok, prego la regia di alzare un po' il volume dell'audio di Saverio. Saverio, buongiorno, ben trovato! Ben trovato a te! Ecco, ora ti sento forte e chiaro. Anticipavo ai nostri amici telespettatori che pane sospeso è un'iniziativa partita ormai due mesi fa a San Giovanni Rotondo da tre ragazzi del posto, anche se due di voi sono a Roma, tu e Donato Ciavarella siete a Roma e Francesco Scaramuzzi a San Giovanni Rotondo. Allora spiegaci che cos'è pane sospeso, così rinfreschiamo un po' la memoria e poi diamo conto dei risultati raggiunti. Sì, grazie, grazie Toni. Beh, pane sospeso è un'iniziativa molto bella, nata, lo devo dire, da Francesco. È molto semplice. Nei panifici di San Giovanni Rotondo abbiamo messo un salvadanaio per raccogliere delle offerte che saranno devolute alla mensa cittadina e alla Caritas di San Giovanni Rotondo. Devo dire che l'accoglienza da parte della cittadinanza è stata molto bella. È un'attività semplice dove sia la cittadinanza che i panificatori l'hanno accettata fin da subito e sta funzionando, come vi dirò dopo. Avete anche dei canali social dove state comunicando quest'iniziativa con delle grafiche che, come stiamo vedendo in sovrimpressione, vanno ad esplicare il progetto. Per cui, vi troviamo su Facebook e Instagram? Assolutamente sì. Questa è stata una delle cose principali che abbiamo voluto fare. Perché, oltre all'azione pratica, vogliamo dare un esempio per tutti, su tutti quanti i canali sociali più comuni. Può sembrare strano, di solito la solidarietà si fa in silenzio, però in realtà l'idea di stare sui social è quella di voler diffondere l'idea e per sperare che possa essere accolta anche in altre piccole comunità. Quindi non è tanto il fatto di volerci mettere all'attenzione di tutti, ma in realtà è proprio per diffondere l'iniziativa, che come vi dicevo è semplicissima. Basta parlare con i panifici, mettere un salvadanaio e poi la cittadinanza risponde. È semplice. Ecco, io ringrazio la regia che ci sta proponendo proprio in TV l'immagine del salvadanaio che avete realizzato per raccogliere i fondi da destinare a questo progetto e che fanno bella mostra di sé nei panifici che hanno aderito all'iniziativa e sono assolutamente d'accordo con te e in sintonia con il tuo pensiero. I social sono uno strumento, se li utilizziamo bene possono essere un veicolo straordinario per contaminarci di bellezza, per ispirare anche in altri giovani ovunque essi si trovano a poter emulare questo progetto che con grande semplicità può effettivamente raggiungere uno scopo molto alto, quello di fornire il pane nel senso letterale del termine a chi in questi anni di pandemia, di crisi economica potrebbe avere difficoltà a portarlo a tavola. È molto bello anche il logo che appunto ha la scritta pane in questo disegno plastico che rappresenterà una vera e propria pagnotta. Mi permetto di aggiungere che il logo è molto bello ed è locale, nel senso che è fatto da un grafico di San Giovanni Rotondo, quindi l'idea di questo progetto è che mette anche a disposizione della solidarietà le competenze locali che abbiamo e che non dobbiamo mai dimenticare e mettere a disposizione della nostra terra. Un progetto bello quindi al 100%, quindi un esempio assolutamente da seguire, ecco lo vediamo adesso alle mie spalle, il logo del progetto stesso, come dicevamo la scritta pane sta a raffigurare una pagnotta appena sfornata, vedete anche i fumi del pane caldo, fumi e profumi del pane caldo appena sfornato. Bene, Saverio, io ti ringrazio tanto, siamo felici di aver iniziato così la giornata sfornando questa bella iniziativa che ci fa piacere condividere per i motivi che abbiamo già detto, perché è un'iniziativa che si può assolutamente replicare in qualsiasi città e paese d'Italia, basta solo un po' di buona volontà. ti lascio lo spazio per un ultimo messaggio, per un saluto e poi magari ecco ci riaggiorneremo ancora per... Assolutamente, sì, saluto tutti e appunto vi dico che dalla settimana prossima cominceremo a consegnare davvero il pane alle famiglie, quindi siamo proprio in rampa di lancio e i risultati vanno condivisi con la cittadinanza, quindi grazie ancora e continuate. Abbiamo visto, prima che ci collegassimo con te, la grafica che testimonia il fatto che siano stati raccolti fondi per 240 kg di pane. Il pane, come mi ricordi tu, viene poi distribuito a blocchi, cioè a raggiungimento di determinati step, questo perché evidentemente ci sono delle famiglie che sono segnalate ai servizi sociali... Al Caritas, praticamente il nostro pane verrà consegnato insieme al pacco che mensilmente viene consegnato alle famiglie segnalate dalla Caritas, quindi della settimana prossima insieme a tutti i beni alimentari ci sarà anche il nostro ticket, così poi le famiglie potranno recarsi ai forni e ritirare il pane e mangiare con un sorriso, la speranza è quella. Grazie Saverio, bellissimo messaggio e quindi continuate così, buon lavoro e grazie per il messaggio, il vostro messaggio buono come il pane. Io auguro buon proseguimento di giornata a te e noi proseguiamo con le nostre rubriche, è la volta della rubrica dedicata ai consumatori intitolata Chiedi a noi.